Il focus del mio intervento è sulle infrastrutture, le infrastrutture di telecomunicazione sulle quali c'è un dibattito aperto, noi andiamo verso un modello che è completamente nuovo rispetto al passato perché gli investimenti sulla fibra e sull'infrastruttura del 5G richiedono risorse cospicue e il modello di business è quello degli investitori di lungo termine, diverso da quello a cui eravamo abituati. Si delinea una competizione infrastrutturale fra due diverse infrastrutture, quella di Telecom Italia Team e quella di Open Fiber e il dubbio è se la competizione infrastrutturale che sicuramente stimola gli investimenti sia effettivamente sostenibile senza far pagare al Paese i costi della duplicazione di investimenti e quindi di una sostanziale inefficienza nell'allocazione delle risorse. È una questione aperta che può avere risposte diverse e soluzioni diverse. Una prima novità è introdotta in base alle decisioni che proprio stanotte ha preso la commissione competente del Senato nel decreto fiscale perché sarà finalmente stabilito anche in Italia che l'offerta di abbonamenti alle telecomunicazioni deve essere trasparente e chiara anche nella qualità della connessione offerta. Oggi tutti offrono fibra e in realtà pochi garantiscono la fibra fino a casa e quindi garantiscono affidabilità, latenza e velocità di connessione proprie delle connessioni tutte in fibra. Tra qualche mese non sarà più possibile e l'autorità delle comunicazioni stabilirà esattamente come l'offerta di abbonamenti e la pubblicità deve essere fatta in modo da garantire al cliente finale, famiglia o imprese, la certezza di sapere qual è l'effettiva connessione. E' quello che in altri settori merceologici già da tempo avviene. È vietato a vendere come olio d'oliva una bottiglia nel quale c'è il 30% di olio d'oliva e il resto l'olio del motore della mia macchina. Nel caso delle telecomunicazioni finora questo è possibile. Tutti offrono fibra ma nel 90% dei casi la fibra si ferma alla centrale o all'armadio e poi c'è il rame. Il convegno è importante perché a parte la prima parte in cui io interverrò focalizzata sui problemi dello sviluppo delle infrastrutture poi è centrato sul tema della sicurezza. Il tema della sicurezza diventa cruciale più il sistema delle comunicazioni diventa strategico, il sistema nervoso dell'economia e della vita di un paese più è necessario garantire la sicurezza dei dati, la sicurezza delle persone, la sicurezza delle comunicazioni.